Curtarolo. Un ordigno bellico sganciato da un aereo americano nel 1944 è stato rinvenuto nelle ore scorse a 4 metri di profondità sulla sponda sinistra del Brenta durante i lavori di bonifica bellica propedeutici alla realizzazione del ponte della ciclabile Ostiglia. L'ordigno è di 1000 libre e lungo un metro e mezzo. Del rinvenimento sono stati messi al corrente i carabinieri e l'aria è stata messa in sicurezza. Sarà la prefettura a coordinare le operazioni di bonifica di cui si incaricherà il nucleo artificiale di Trento.